Benvenuti nel canale YouTube del Club dell'Unità di Pastorale Giovanile San Filippo Neri. Anche attraverso questo strumento vogliamo farvi conoscere le attività e le iniziative della Pastorale Giovanile di Camparada, Correzzana, Gerno, Lesmo, Peregallo. Vogliamo portarvi a conoscenza ed invitarvi alle proposte rivolte a tutti i bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani dell'Unità di Pastorale Giovanile San Filippo Neri. Ci ha spinto ad aprire questo canale YouTube il desiderio di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo secondo le indicazioni della nostra Santa Chiesa Ambrosiana. Sperando di essere all'altezza di questo grande compito e di farvi cosa gradita, lasciamo a voi la possibilità di visionare tutto il materiale che verrà posto in questo canale dell'Unità di Pastorale Giovanile San Filippo Neri. Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Caritas in Veritate, afferma che la società sempre più globalizzata ci rende vicini ma non ci rende fratelli. Vorremmo che questo canale YouTube ci aiuti a conoscerci, ci renda più vicini e ci spinga ad una relazione interpersonale per incontrarci e sentirci davvero fratelli e sorelle in Gesù Cristo. Per questo, nella speranza e nell'attesa di incontrarci personalmente, vi chiediamo di seguire con attenzione le nostre iniziative, di aderire alle nostre proposte e di accompagnare il servizio di tutti gli educatori con la vostra preghiera, la vostra stima e il vostro sostegno. Il Signore vi accompagni con la sua grazia, vi custodisca nel suo amore e vi benedica. Con affetto, nel nome del Signore, Don Donato. Grazie. 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 Grazie.